è arrivato il momento di acquistare dei nuovi pneumatici oggi vedremo insieme quelli che ti consigliamo per questa stagione estiva se ti interessa l'argomento ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella sigla quando è necessario acquistare dei nuovi pneumatici non è sempre facile individuare quale sarà il prodotto giusto per me tra decine di marchi di pneumatici che producono centinaia di modelli declinati in migliaia di misure pensati per equipaggiare differenti modelli di auto ecco allora il metodo origomba che con la migliore oggettività possibile ti potrà aiutare ad individuare i migliori pneumatici per il tuo prossimo acquisto oggi analizzeremo le gomme estive per capire se è la stagionalità giusta per te guarda il nostro video pneumatici 5 stagioni cliccando sul link in alto a destra ci concentreremo sui segmenti b c e d dunque vetture piccole medie e medio grandi riservandoci di esaminare in altri video i prodotti dedicati ad altri segmenti ecco i prodotti che vi consigliamo il continental premium contact 6 il michelin primacy 4 per completezza di informazioni ha debuttato da poco sul mercato anche la versione evoluta del pneumatico francese il michelin primacy 4 plus ma non vi sono sufficienti test per poterne fare una corretta comparazione il good year efficient grip performance 2 e poi come miglior prodotto per rapporto qualità prezzo in nokian wet proof i quattro prodotti consigliati si sono distinti nei test delle più importanti riviste internazionali di settore posizionandosi così il premium contact 6 di continental è il primo classificato grazie a ben due vittorie e tre secondi posti il primacy 4 di michelin si posiziona secondo avendo ottenuto due primi posti due secondi e un quarto posto l'efficient grip performance 2 di good year ha conseguito ben due primi posti e tre discreti piazzamenti il wet proof di nokian è un passo dal podio con un secondo posto due terzi posti un quinto in undicesimo piazzamento esaminando i dati dell'etichetta europea di alcune delle misure più rappresentative di questi modelli scopriamo che il michelin primacy 4 eccelle in quanto a risparmio di carburante la miglior aderenza imprenata sul bagnato è assicurata dai pneumatici di good year e nokian chi desidera un pneumatico silenzioso troverà nel michelin e nel nokian due ottimi alleati non abbiamo nominato il continental in quanto non può vantare picchi di eccellenza in una specifica categoria ma assicura un ottimo equilibrio in tutte le performance ma parlando di prezzi quanto costano questi pneumatici prendendo sempre campione le misure più acquistate sul mercato il continental e il michelin si posizionano all'apice della scala dei prezzi un gradino sotto si posiziona good year ed infine la gomma di nokian che ha ottenuto buoni risultati in termini di performance nell'etichetta europea e un comportamento discreto nei test per concludere da parte nostra vi consigliamo questi pneumatici estivi senza dimenticare però che certamente ci sono tante altre ottime marche e modelli che ci impegneremo a testare nel tempo se vuoi saperne di più su questi quattro prodotti non perderti i nostri video dedicati e potrai scoprirne tutti i dettagli tecnici se desideri un preventivo personalizzato per la tua misura di pneumatici vai sul nostro nuovo store rigomma tutti i link li trovi in descrizione quali pneumatici ci suggerisci di testare se interessato ad altre comparazioni tra diversi prodotti fammelo sapere nei commenti qui sotto un saluto da nicola e al prossimo video